Ciao a tutti, sono qui per parlarvi brevemente del nuovo live album dei Metallica con la San Francisco Symphony, il disco si chiama S&M 2T, chiaramente, questa è la bella copertina tra l'altro che mi piace molto, ma prima di cominciare voglio fare una premessa. Se seguite il canale sapete che mi sto lamentando un po' dei commenti, quindi da questo momento in poi farò il dittatore, qualsiasi messaggio antipatico verrà rimosso, chiamerò la polizia, lo segnalo a YouTube e nascondo l'utente dal canale. Antipatico, ripeto, potete dirmi quello che pensate, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, si parla di musica, abbiamo opinioni diverse, se non siete d'accordo ditelo con toni pacati, altrimenti verrete bannati dal canale, non accetto più niente, da oggi in poi basta. Ora, venendo all'album, faccio partire... è partito, sì. Questo è No Leaf Clover, che se ricordo bene era presente anche nel primo S&M. Allora, cos'è cambiato fra il primo e il secondo S&M? Secondo me non è cambiato molto, mi sono lamentato sempre un po' di quell'album e mi lamenta in qualche modo anche qui. Adoro tutti i live con l'orchestra, tutti. Quello degli Altebridge, uno dei concerti più belli mai visti in vita mia. Tutti, che non lo so che... Dream On con l'orchestra, con l'orchestra, è una delle mie canzoni preferite di sempre. L'ultimo disco degli Accept con l'orchestra, bellissimo. Quando ci sono i Metallica con l'orchestra c'è sempre qualcosa che non mi va. Sempre per gusto personale, perché parliamo di qualità altissima, l'orchestra fantastica, suoni fantastici. Secondo che non mi piace, è che è tutto molto cinematografico. Ecco, questa è la parola. Mi piacciono anche le canzoni di Sanremo con l'orchestra, per dirvi. Però mentre, appunto, parlavo dell'orchestra di Sanremo, mentre l'orchestra degli Altebridge, di altri concerti che mi piacciono, riempie la canzone, la bellisce, la arricchisce di particolari. In questo caso è come se avesse vita a sé e la infarcisce di altri particolari, che è quasi come una colonna sonora, ecco. Magari a voi può piacere, a me francamente no, perché c'è tanta roba, troppa roba. Mentre vorrei sentire un'orchestra che accompagna il pezzo, lo trascine, piuttosto che arricchirlo di tante cose. Ok, sto gesticolando come un pazzo. Rispetto al primo, ma non è solo una differenza di questo live, ma dei metalli che in generale a me manca un sacco. Jason Newstead. Non mi manca tanto come bassista, anche se mi piace molto il sussire. Robert Trujillo è forse il bassista migliore tecnicamente che viene avuto. Sicuramente più di Jason. Ma Jason cantava bene, faceva le doppie voci, i cori, li faceva bene. È quasi un cantante Jason. Quindi si sente quando ci sono delle parti in cui c'è bisogno della seconda voce. Quindi questa è la cosa che mi manca di più rispetto al primo S&M. Per questo mi è piaciuta molto quello che è il secondo CD con i Metallica che non suonano canzoni di Metallica. E anche The Unforgiven 3 senza batteria. Ecco, a proposito di batteria. L'asso di Erno mi sta qui perché tende, sempre secondo il mio giudizio, tende a colmare dei limiti che lui ha sempre di più, tendendo a strafare, a fare più di quello che dovrebbe fare. E in alcuni parti ho fatto il primo ascolto. Che canzone era? Forse Nothing Us Matters. Troppo. Mette troppa roba. Passaggi a caso. L'ho visto anche dal vivo un paio d'anni fa ormai. Veramente in alcuni frangenti quando si dovrebbe limitare a seguire la canzone e metterci qualche feel, lui riempie di feel anche andando fuori tempo a volte. Insomma, mi dà fastidio in alcuni frangenti, ma in generale a parte in qualche canzone va bene. Fa la sua parte. La scaletta è bella varia. È bello il fatto che... Ma anche nel primo era abbastanza varia. Che non ci siano solo le canzoni che... Insomma, i loro capisaldi dei primi cinque album. C'è anche roba degli album precedenti. C'è anche roba dell'ultimo album. Certo, forse Confusion e Hello on Fire si potevano anche evitare. Però ci stanno. Niente, è un live... Ineccepibile. Parliamo di Metallica, parliamo di un'orchestra fantastica, la San Francisco Symphony. Francamente non so se lo riascolterò, perché... L'ho già spiegato, perché... Però è un live bellissimo. Volete comprarvi il Blu-ray? C'è l'edizione WCD e WCD col Blu-ray. Tra l'altro il WCD costava, l'ho visto in negozio, tipo 12 sterline. Il WCD col Blu-ray costava tipo 31. Non aveva senso. Stessa confezione col Blu-ray allegato per un Blu-ray 20 sterline. Comunque. Quindi, fatelo vostro se vi piace. Questo è solamente il mio gusto personale. Niente insulti, perché vi cancello e vi vanno subito e vi mando la polizia a casa, come faceva il buon Maurizio Mosca tanto tempo fa. Niente. Questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Mettete un like se il video vi è piaciuto. Parliamo di musica, come sempre. Ciao a tutti. Alla prossima.